Ciao ragazzi benvenuti in questo video, grande regalo che ci ha fatto Rebel Betting, 3 giorni di abbonamento pro gratis. Andate in descrizione, usate il mio link, se vi siete persi il mio video su Rebel Betting è andato, vi è piaciuto molto e Rebel Betting ha apprezzato e ci ha regalato 3 giorni di abbonamento pro, quindi andate nei link in descrizione anche se avete già attivato la trial free di 14 giorni, cliccando sul link che trovate in descrizione avete 3 giorni gratis e potete provare la piattaforma pro al completo per 3 giorni, avete tutte le short bet, tutte le value bet vi basta lasciare la mail con cui vi siete registrati e poi loggarvi e avete 3 giorni, se è la prima volta che volete provare se non vi siete iscritti alla free trial, se non avete visto il video precedente, in molti vi siete iscritti dopo quel video mi fa piacere, è una piattaforma bomba, adesso vi spiego se non sapete di che cosa sto parlando siamo nell'ambito delle scommesse sportive, è una piattaforma che ci trova le short bet, le scommesse sicure ovvero trova quelle piattaforme, quei bookmaker, quelle piattaforme per fare scommesse online sul calcio su qualsiasi sport, su qualsiasi evento sportivo e trova quelle quotazioni che sono errate quindi sfruttando un errore matematico ti dice vai su questa piattaforma e giocati questo risultato giocati il risultato opposto su quest'altra piattaforma, qualunque cosa succeda tu vincerai magari vinci l'1, il 2, il 3% però è sicuro quindi ne puoi fare tante e praticamente abbonandoti a Rebel Betting puoi accedere a tutte queste short bet e fare praticamente scommesse sicure e vincere piano piano farti il tuo gruzzoletto online, mi sembra un grande modo sicuro per guadagnare e poi ci sono anche le value bet ma lo vediamo dopo se volete provare in descrizione c'è il mio link vi cliccate, lasciate la vostra mail, vi registrate se non vi siete ancora registrati e avete tre giorni gratis di Rebel Betting Pro adesso vi faccio vedere questo il sito poi ovviamente ragazzi il abbonamento anche quello start da 99 euro al mese se non c'è costa 199 euro al mese quello pro però voglio dire è un investimento in un mese facendo tra value bet e sure bet vi permette di guadagnare soldi in maniera molto semplice scommettendo e sfruttando i vari errori che trova in giro la piattaforma vi fa guadagnare in modo sicuro quindi non stiamo parlando di fare scommesse, di sperare, di niente qua è tutto matematico, trova degli errori in tutti i bookmaker e poi vi dice che cosa fare adesso ve lo faccio vedere allora andiamo, qui vedete mi sono logato, sono su Rebel Betting Pro c'è questa partita per esempio Svezia contro Svizzera che parte tra due giorni ma credo sia ok, ok qui ha trovato un errore vedete con un budget di 200 euro ti dice vai su Leo Vegas o Unibet e giocati la vittoria della Svezia overtime incluso a 1,88 mettici 108 euro e invece vai su Bet365 a 2,20 la vittoria della Svizzera a 2,20 ti giochi 92 euro in totale 200 euro se vince la Svezia tu guadagni l'1,5% quindi 3 euro e 0,4 se invece vince la si credo sia una partita perché non essendoci overtime incluse credo sia una finale o una partita o eliminazione cioè una partita in cui ci deve essere per forza un vincitore non è ponderato diciamo il pareggio come risultato infatti ti dice supplementari a rigore incluso quindi se vince la Svezia sono 3,04 euro se vince la praticamente Svizzera sono 2,40 euro tu comunque guadagni ovvio sono pochi soldi però se aumenti il budget che ne so con 400 euro qua vinci 6,08 euro qui ci vuole del budget però sono scommesse sicure ok con il link in descrizione puoi provare 3 giorni gratis tutte le sure bet e le value bet ok tu qui puoi praticamente come puoi vedere te ne da 20 delle 35 però c'è la possibilità di cambiare i filtri cliccando qui puoi selezionare tutti i bookmaker ma facendo add vedete li potete selezionare tutti ce ne sono tantissimi e trovare tutte le sure bet ok se torno su bet vedi lui mi dice che ce ne sono 19.711 quindi a voglia e ne potete avere tutte nella versione pro su appunto l'abbonamento pro vi permette di avere tutte le sure bet che per me sono una bomba oppure vediamo vediamo quest'altra over e under vedete molto è stupendo tu hai 200 euro vai su bet way e ti giochi l'over a 3.20 l'over mentre su bet click ti giochi l'under giochi 200 euro se prendi l'over a vinci 4.80 su 200 euro il 2.4% se esce a under vinci 2.64 ma se metti 1000 euro ok sono soldi sicuri vinci 17 euro 16 euro ok se hai un budget cioè questa sarebbe da fare poi praticamente vai su bet way ti registri ovviamente e su bet click qualcuno mi ha chiesto forse nel video nell'altro video che ti metto qui nelle schede il tutorial se te lo sei perso ma devo fare la scommessa qui dentro no qui vedi quello che ti dice e poi tu ti iscrivi a bet way ti iscrivi a bet click e fai da una parte qui su bet way metti l'over su bet click l'under qualunque cosa succeda tu guadagni 17 euro se esce over 16 euro se esce under con 1000 euro ok sono sicure le percentuali sono masse ma sono sicure quindi se hai un budget e vuoi farlo crescere in maniera sicura rebel betting è la diciamo piattaforma che ti aiuta ad aumentare i tuoi soldi a far crescere i tuoi soldi sfruttando le sure bet le scommesse sicure sfruttando degli errori dei vari bookmaker che sbagliano ed è in maniera matematica lui ti trova questo errore ok ce ne sono tantissime poi ci sono le value bet anche cliccando qui sotto vedete c'è sure bet o value bet vedete siamo su rebel betting pro value bet quindi le value bet sono delle scommesse molto probabili secondo l'algoritmo secondo le ricerche matematiche dell'evento e tutto il calcolo delle probabilità sono delle scommesse di valore nel senso che è molto probabile il risultato che ti dice però qui si possono perdere soldi sì il risultato può essere non sempre può può succedere che non si verifichi ok quindi qui potete vincere di più ma potete anche perdere soldi quindi state attenti se volete andare sul sicuro avete un bel gruzzoletto 1000-2000 euro lo investite nelle sure bet e piano piano quel capitale cresce proprio grazie a rebel betting che vi segnala tutte le sure bet fantastico andate in descrizione iscrivetevi potete provare per tre giorni rebel betting pro l'abbonamento pro per tre giorni è gratis vi fate tutte le sure bet e tutte le value bet che volete potete provare la piattaforma poi fatemi sapere nei commenti comunque grazie a rebel betting per questo regalo ok qui ci dice ci dice win over time includo ok chi vince ok va bene qui possiamo anche qui fare i filtri possiamo scegliere diciamo tutti i bookmaker ne aggiungiamo altri ok bla 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 ovviamente se voi avete un account su per esempio proviamo solo bet365 avete un account su bet365 mettiamo solo bet365 ok facciamo salva torniamo alle bet e queste sono tutte quelle 18 value bet di bet365 fra tre ore c'è questo ora io non conosco bene a h non so cosa voglia dire roba qualcosa con handicap chi a chi segue lo sforzo e fa scommesso per esempio l'over l'over di questa partita di SM Melbourne Phoenix vs Melbourne United overtime incluso over ok a 1,91 ok secondo le ricerche che ha fatto l'algoritmo e la piattaforma è molto probabile che esca over 1,91 quindi quasi un per due se giocate 10 euro ne vincete 10 se giocate 100 euro ne vincete 191 ok però c'è una percentuale può succedere che non sia giusto ok quindi magari ne potete combinare potete fare una schedina su bet365 anche le value bet sono interessanti fate una schedina ne mettete due o tre giocate 2,3 euro 5,10 euro quello che volete è come se diciamo ci fosse un aiuto da una piattaforma che vi consiglia e vi segnala le value bet cioè quelle scommesse di valore che per esempio questo over sempre dato a 205 del basket in Australia andate tutte su bet365 fifa no fiba molto molto interessante anche se le shoe bet sono le mie preferite ok e qui le avete tutte con l'abbonamento pro quindi tre giorni gratis di abbonamento pro su rebel betting link in descrizione fatemi sapere che cosa ne pensate e come sta andando con con le shoe bet le value bet veramente veramente grazie a rebel betting per questo regalo tre giorni di abbonamento gratis anche se avete già fatto vi siete già registrati alla prova gratuita di 14 giorni ma quella è limitata qui avete proprio tre giorni gratis tutto proprio l'abbonamento pro quindi fatelo anche se vi siete già registrati vi basta cliccare sul link in descrizione e lasciare la mail con cui vi siete registrati e poi si attiva come ho fatto io che anche io stavo usando la diciamo versione free di 14 giorni ma rebel betting ci ha regalato tre giorni gratis pro tutti i link sono in descrizione e noi ci vediamo ad un prossimo video fatemi sapere come va e noi ci vediamo ad un prossimo video commentate iscrivetevi e supportate questo canale se questo video vi è stato utile ciao